Per chi ti ha lasciato un belga? Mi abbraccia? Te l'ho detto che belga! Ma che cazzo c'entra? Certo che il tuo amico tiene la sua età, eh? Magari Alma si aspettava qualcosa di diverso quando l'hai detto ti presento un amico. Magari pure qui si aspettava qualcosa di diverso da Peppa Pig. Che cosa sta facendo, zia? Niente, dall'altra parte c'è uno che le interessa. Mati! Non è che avresti dello zucchero. Una così non ti capita più, lo sai. Lo sai, è vero che una così non ti capita più. Paola, ascolta. Ho conosciuto una ragazza. Mi sembra di conoscerla da una vita. Oh, che bello! Ma non ti sembra strano che dopo un mese non sai niente di lei? Cosa sta dicendo la mamma? La ragazza più bella del mondo arriva a casa tua e ti chiede lo zucchero e poi dopo un'ora si dà a letto. Come me la chiami sta cosa? A me sa tanto di amore a prima vista. A me sa tanto di truffato un anziano. Ma che bella sorpresa! Lui è mio papà, lei è mia mamma, lui è Paolo di cui sai già tutto. Lei è... Silvia. Va bene. Con me ci sta un corpo. Un corpo vero. Non sei tu che ti fai essere da sola, eh? Professor! Buongiorno ragazzi. Adesso ma... che state facendo? Non è che noi professori siamo entità asessuate, eh? No, no. Solo che ovale... Cioè ovale è strano. Comunque vogliamo fare un matrimonio tranquillo con pochi invitati, anche per sparmiare, no? Sì, e se le amiche di Silvia sono come lei è sicuro di sparmiare sul canale. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.